E così comincia la nostra hardcore raccogliendo un pochettino di legno e la domanda adesso è cosa farà Ferre in questo primo episodio Ehi la gente benvenuti in questo nuovo video oggi siamo tornati dopo tanto tempo ma tanto tanto tempo su minecraft Ebbene si oggi il mio ipad è spento perchè oltretutto non giocheremo a minecraft mobile ma bensì alla versione pc perchè forse molti di voi non lo sanno ma il mio canale nasce come canale di minecraft Io ho cominciato su youtube nel 2013 portando video di minecraft come tanti altri miei colleghi e da lì poi si è evoluto il tutto E insomma si è... ho creato questa cosa che vedete tutti i giorni E quindi ho pensato perchè non cominciare una miniserie è una serie che ha un numero di episodi limitato questo Perchè sarà in hardcore giusto per la cronaca quindi prima o poi morirò e la serie finirà Ehm... perchè non cominciare una serie dove insomma mi tolgo un po' la ruggine di dosso E soprattutto vediamo insieme il nuovo minecraft perchè proprio l'altro giorno è uscita la 1.16 La nuova versione di minecraft Guardate già solamente la schermata iniziale quanto è bella ragazzi Cioè con un'immagine una panoramica sul nuovo nether Andiamo subito su giocatore singolo perchè ho sempre giocato in singolo ma nei server E come potete vedere esiste già un mondo che si chiama minecraft hardcore S1 La prima stagione di minecraft hardcore l'ho iniziata e finita completamente in streaming Quindi chi mi segue su twitch il link in descrizione si è beccato questa chicca Ho visto che su twitch vi è piaciuto e quindi ho detto why not proviamo a portarlo anche su youtube Ehm... prima di cominciare voglio fare una premessa molto rapida Ovvero che in questa serie vorrei cercare almeno ad oggi episodio numero 1 Di avere tre regole fondamentali Che servono a ovviare un problema grandissimo che c'è tra me e minecraft Il fatto che se io prendo e mi metto a costruire seriamente su minecraft Mi metto a fare qualcosa di serio Non smetto più Cioè io gioco a minecraft anche per 7 ore di fila A chi mi seguiva in live questa cosa l'ha notata Ma io voglio portarci dei video Voglio portarci un qualcosa che si possa racchiudere bene o male in 10 minuti E possa comunque essere un contenuto divertente per voi Pertanto gli episodi saranno così strutturati Ci saranno tre tipi di episodi Episodio di avventura Due Episodio redstone E terza tipologia Un tipo di episodio decorativo Il secondo punto molto più semplice È che voglio decidere a priori Cosa fare durante questi episodi E terzo e ultimo sarà una serie Proprio perché è anche in streaming Interattiva Quindi chi mi segue su Twitch Potrà vedere sia tutta la parte off camera Che nel video insomma giustamente non si può vedere E ovviamente avrà anche la possibilità tramite i sondaggi Di rispondere a delle domande Ecco perché non ho ancora creato il mondo La prima domanda che faccio oggi È proprio il seed che vado ad utilizzare Crea un nuovo mondo Vado ovviamente in modalità estrema Metto stagione 2 A Ok Quindi ricordate questo qua che vi mostro ora È il numero A È la lettera A Scusate Crea un nuovo mondo Voi potrete solamente dare un'occhiata Io mi girerò su me stesso Non muoverò neanche le frecce direzionali E a quel punto voi dovrete Così a primo acchitto a sensazione Votare il vostro preferito Premettendo che io da lì posso andare a costruire dove voglio E non è che sono vincolato a costruire dove spawno Ok signori Ho generato tutti quanti i mondi Adesso state molto attenti So che è una scelta difficilissima da fare Perché voi potete solamente dare uno sguardo Ma la vostra scelta cambierà l'andamento di tutta la serie E così sarà per anche gli altri episodi Allora iniziamo da il seed A Ok non so neanche come il seed non l'ho neanche messo Ho messo proprio fatto generare a caso Ok ho rotto i blocchi intorno a me Per riconoscere il blocco di spawn Questa è la prima spawnata possibile Tra l'altro qua rompendo c'è addirittura già un canyon Quindi boh muoio già subito e via Questo invece è il B ragazzi È molto più pianeggiante Là già vedo addirittura tre biomi pianura Foresta, tetto scuro e deserto Ok molto semplice direi Segui ovviamente il C ragazzi Qua mi sono trovato subito un albero in faccia Qua siamo in un bioma più freddo Là c'è un qualche cosa Che non so bene che cosa sia Ancora il D ragazzi Qua spawniamo con una palude di fronte Un bel boschetto di là E mare aperto Per il resto si c'è una pianura interessante Là c'è qualcosa tipo ghiacciato E ovviamente concludiamo con la E Vediamo un pochettino qua dove siamo spawnati Zucche, mucche, cavalli, una super pianura, un bioma freddo Una volpe che gira E un'altra volpe che gira E questo è lo start E Quindi insomma adesso tocca a voi decidere ragazzi Sondaggio Ok ha vinto La lettera numero E Allora Ragazzi Andiamo quindi a eliminare tutti gli altri seed E andiamo a vederli insieme Non mi ricordo neanche più qual era Era quello con le volpi Oh Ho visto delle pecore là Uh Quante pecore oltretutto Eh Allora se era quello con le volpi Se non ricordo male Le erano tipo per qua Allora signori Ma va che alberone che ci abbiamo subito qui Blandi Vabbè ma io il primo alberone Lo lascerei fatto così ragazzi proprio Con la crafting table piantata dentro Proprio per ricordarci che siamo spawnati qua E così comincia la nostra hardcore Raccogliendo un pochettino di legno E la domanda adesso è Cosa farà Ferre in questo primo episodio? Sicuramente il primo episodio è un episodio di avventura ragazzi Nel primo episodio di avventura Andremo a tamponare quelle che sono le esigenze primarie del nostro player Siccome siamo in hardcore E non possiamo permetterci di morire neanche una volta Per un mob Per La fame Per qualche cavolata Ok che può succedere la prima notte Allora andiamo subito a trasformare tutto il legno Ci facciamo magari Un po' di stick Ci facciamo solamente il piccone in Legno Non sarebbe male trovare una cavernotta Ed eccola qui Ogni volta è come la prima volta Ok abbiamo tutti quanti i nostri tool Soprattutto la spada eh Guarda quante belle pecorelle Bella lì Ecco qua anche le mucchine Queste sono molto comode Perché una delle cose che mi servono maggiormente in questa serie Sono i libri O meglio il libro Ok nel frattempo ho trovato questa pozza di lava Va vicino a una pozza d'acqua Quindi se mi ricordo ancora i trick Quelli importanti Tac Vabbè tanto la cosa più importante Paradossalmente ragazzi è il letto Perché col letto in un attimo andiamo a dormire Siamo a posto E diciamo che la prima notte Che è sempre un po' l'incubo dei primi giocatori Abbiamo passata E già Abbiamo fatto meglio di tante altre mie hardcore Ok andiamo un pochettino a rompere qui Bene Molto bene ragazzi Facciamo un bel affare Facciamo così Facciamo così Iniziamo un po' a piazzarci La zia L'altra zia Qua sotto Facciamo tac Facciamo tac Vabbè allora mentre li cuoce un attimino ragazzi Andiamo a prendere un attimino queste belle canette a zucchero Perché sono quattro Proprio il numero perfetto di canne da zucchero Una la teniamo da parte E ci andiamo a fare poi un'altra coltivazione E con le altre ci facciamo la carta La carta ragazzi Con un pezzo di pelle E appunto i tre pezzettini Tac ci dà il libro Datemi il tempo di trovare ancora la piuma E il calamaio O meglio la zacca di inchiostro E facciamo cose Siamo in hardcore ricordiamo Quindi non è da sottovalutare Comunque sia il discorso di allarmatura Io ho una bella chest Me la farei quasi quasi Subito subito Ok signori sono uscito dalla caverna Come vedete ho un alimentare bello pieno E guardate là che cosa ho trovato Allora È molto pericoloso assaltarli Secondo me non ne vale la pena Guarda cosa c'è poco più in là Guarda cosa c'è Ragazzi questa è una delle novità Del nether update Ovvero un portale disattivato Cosa mi ha droppato Uh Uh Mi ha droppato la sua malestra L'infame Aha Allora andiamo subito A tappare tutta la lava Perché è molto pericolosa Ok questo me lo piglio Ce ne sono mica altri Sì vedi 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 Uh lo squid finalmente signori Molto bene Molto bene Perché molto bene Perché con lo squid Io posso fare questa cosa Molto bella Libro Piuma Sacca di inchiostro E voilà Abbiamo il nostro libro Il resto posso anche buttarlo La userò molto per appuntarmi tutte quante le idee E all'inizio di ogni episodio vi andrò a mettere su carta proprio 5 idee che possiamo iniziare per quell'episodio lì Ok scusate il leggerissimo lag È che sto generando mondo a ruota proprio Ho trovato un villaggio sto giro Signori guardate un pochettino che cosa abbiamo Un bel relittino Andiamo un po' com'è qua sotto Perché non mi si apre Ah eccola Uh La mappa del tesoro signori Uh davantino Allora regola Penso che la cosa migliore sia Vedere la mappa ragazzi Ok ragazzi Con la mappa del tesoro Sto appunto andando a cercare il tesoro E ho trovato di fronte a me Un mare enorme Quindi appunto devo attraversarlo E vedo della terra È possibile che sia là il no What? C'è un Un qualcosa tipo un tempio sottomarino E di quelli con il portale disattivati Signori Probabilmente ci siamo Insomma signori Io sto scavando È qua da qualche parte Ma molto probabilmente Lo scopriremo solamente Nel prossimo episodio Andiamo un pochettino Se mi esce fuori Voglio avere proprio la cassettina davanti Oh Eccolo qua Ebbene signori Qua non ci fermiamo Faccio l'infame Aprirò questa cassa solamente Nel prossimo episodio E continuerà probabilmente La nostra ricerca di una casa Anche perché il mio inventario Si è leggermente riempito Abbiamo già un sacco di roba figa Perché stiamo veramente viaggiando molto Però insomma Siamo ancora un po' Sprovvisti Di un vero e proprio luogo Dove costruire Che dire Io posso solo sperare Che questo primo episodio Vi sia piaciuto Se è così Fatemelo sapere con un super pollice Con un commentino qua sotto Iscrivetevi al canale E il codice fare non c'è su minecraft Magari poi lo metteranno Ragazzi Noi ci becchiamo alla prossima Un saluto da tutti E Ciao belli Comunque sia sarebbe bastato Che La gente avesse votato Un altro seed E tutto sarebbe andato In una maniera diversa Giusto per la cronaca E tutto sarebbe andato